Dottore, allora che cosa conosce la comunità scientifica della sindrome delle morti in culla? Beh, la sindrome della morte in culla è una delle sindrome più studiate, tocca dire, è anche una di quelle delle quali si conosce di meno. In realtà è una sindrome la cui diagnosi viene fatta per esclusione. Bene, generalmente tutti sanno che cos'è, ne abbiamo avuto un caso, un bambino di solito che ha meno di sei mesi viene trovato privo di vita in culla dopo che è stato messo a dormire normalmente e viene trovato in una condizione di non sofferenza. Quindi è un bambino che è morto per ragioni completamente sconosciute e che di solito nemmeno l'autopsia riesce a rilevare. Anzi, se l'autopsia rilevasse qualche cosa non sarebbe la morte in culla. Quindi la morte in culla è un vero mistero e la scienza non ne sa un granché. Solo poche cose si sanno e sono tutte di ordine statistico. Cioè noi non sappiamo perché, per esempio, il consiglio che viene sempre dato di far dormire un bambino supino e non prono possa proteggere dalla morte in culla. Abbiamo delle ipotesi, ma nessuna certezza. Che cosa si può fare, come possono fare i genitori, i giovani, per in un certo qual modo prevenire questa possibilità? No, non è prevenibile. Io direi che la miglior cosa è quella di, innanzitutto, utilizzare degli stili di vita corretti fin dalla giovane età e quindi direi che tutti i genitori siano sani e che abbiano avuto dei corretti stili di vita. L'altra cosa, non fumare in famiglia quando si ha un bambino, mettere correttamente a letto così come viene suggerito sempre o il bambino supino oppure anche su un fianco ma con il cuscino di sicurezza e questo fino all'età di sei mesi. Altre cose non me la sentirei di dire. Soprattutto direi di non diffondere il panico, è una cosa molto, molto, molto rara per cui è vero che esiste, ma non possiamo vivere come ha fatto qualcuno che ha monitorato il bambino per mesi e mesi, non ha senso.